In un convegno del paranormale. Rivolgo questa domanda alle persone presenti in un convegno del paranormale. Credete che in genere le persone con una mente molto organizzata, cioè dotate di grande intelligenza, siano volubili, dedite agli eccessi e inclini a relazioni amorose anormali e che la loro vita sia amorale? Molti partecipanti al convegno rispondono che le persone molto intelligenti presentano un forte disordine morale. Allora ho chiesto alle persone convinte che un'intelligenza elevata corrisponda ad un basso livello morale di indicarmi i nomi delle persone dei generi che si sono incarnate negli ultimi quattro secoli. Dopo aver discusso a lungo molti degli interrogati riconoscono che non hanno prove per ammettere che tra i grandi prevalga l'immoralità. Allora dico io credo che tra i grandi spesso non prevalga l'immoralità ma anzi una nuova moralità, una moralità successiva che all'inizio non è compresa dalla media evoluzione ma che col tempo si afferma come moralità comune. Infatti più una persona è intelligente e più si renderà conto che nella vita otterrà quello che vuole con l'onestà piuttosto che con l'inganno, con l'accettare i doveri sociali piuttosto che eluderli ed ecco la nuova moralità. Un partecipante al convegno allora dice perché accade così? Perché la legge d'evoluzione esige che tutto vada sempre e comunque per il meglio anche se i più non se ne accorgono.